buongiorno sono giampaolo dalla pasolini auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presento un'ottima mini clubman cooper d con cambio automatico vettura del 2008 con 121 mila chilometri percorsi originali si presenta in una bellissima tinta marrone metallizzato con tetto e specchi di colore nero lucido ruota in lega 17 pollici doppio battente per la porta posteriore e vetri oscurati vettura molto in ordine anche dal punto di vista della carrozzeria vi mostro gli interni che sono sedili in pelle sportivi il colore della pelle marrone cioccolato con cordura panna il volante sportivo tre razze con pedal per il cambio ecco i 121 mila 500 chilometri percorsi abbiamo inoltre climatizzatore automatico naturalmente vetri elettrici radio cd mini boost inserti nero lucido e pelle panna e marrone specchi a regolazione elettrica vi mostro il divanetto posteriore che nelle stesse condizioni in cui versa il resto della vettura è un'automobile che vendiamo con 12 mesi di garanzia legale di conformità è in pronta consegna e vi aspetto gussago presso il nostro autosalone pasolini auto per vederla provarla ed eventualmente acquistarla grazie